I pui in concerto per la vita di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri Siamo a Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa e sono insieme a Bruno Ciampini, presidente della Proloquo Il Piazzone per presentare l'edizione 2011 del concerto per la vita Chi ci sarà quest'anno come ospiti? Prima di dirvi chi ci sarà vorrei fare, spendere due parole su quello che è il nostro concerto per la vita che sì è un concerto a scopo di beneficenza ma è anche un bel trampolino di lancio per la nostra zona per tutta l'alta Val di Cecina Quest'anno come ospiti abbiamo i pu Quest'anno a beneficiare del concerto sarà l'associazione Mia Onlus che ha sede a Pisa ne vogliamo parlare? Sì, appunto quest'anno la nostra intenzione è di evolvere il ricavato del concerto a questa associazione, l'associazione italiana Mia Stenie la cui presidente Roberta Ricciardi è la massima autorità in campo di circa media per questa malattia Abbiamo detto che il concerto si svolge a Castelnuovo Val di Cecina in provincia di Pisa lo ricordiamo ma vogliamo anche dire la data e dove Sì certo, dunque il concerto si svolge a Castelnuovo Val di Cecina presso il campo sportivo Piorzini domenica 7 agosto alle 21.30 E per i biglietti? Per i biglietti sono attivi già da qualche giorno le prevendite sia sul circuito Ticket One che sul circuito Box Office in più abbiamo un punto vendita come punto Box Office qui a Castelnuovo presso l'ufficio turistico comunale Poo dove comincia il sole tour dopo lo straordinario successo nei teatri prosegue in estate il tour dei Poo dove comincia il sole tour tre ore di magia ed emozione con la musica dei Poo da giugno in tour in tutta Italia domenica 7 agosto al concerto per la vita campo sportivo Orsini Castelnuovo Val di Cecina in collaborazione con Proloco il Piazzone e Confraternita di Misericordia prevendite Ticket One e Box Office